Una notizia della città dei muratori e degli scalbellini! Stante la penuria di pietra, i lavori di puntellamento del portale di San Matteo subiranno ritardi! Cavoli! Rave le cipolle! È tutto buono! Ecco no! Non ho mai visto un tale raduno di non mi armate! Tutti i residenti in San Gimiliano... ...esciamo di che basta siete! Tre anni! Correte via su tutti i soldi! Non so, non so, non so! Non so, non so! Non so, non so! Prego! Udite, udite! Per ordine dello stimato Consiglio di Firenze, la decima sul raccolto di quest'anno verrà elevata per ogni stagione oltre ogni 10! E si verseranno tre sul pittino e non so! Peccato!